Le tecniche di salvataggio nelle lesioni non riparabili della cuffia dei rotatori oggi sono diverse e ci sono diverse possibilità di trattamento. Non c'è chiarezza ancora su quale sia la tecnica migliore, ma le tecniche sono tutte molto promettenti e vanno da semplici riparazioni parziali fino a transfer muscolari, a tecniche molto avanzate, moderne, come la ricostruzione della capsula superiore o l'augmentation con il bicipite brachiale. Ci sono alcune tecniche che sono più consigliate, più utilizzate nel giovane perché garantiscono un recupero di forza e quindi di autonomia di funzione maggiore e nel paziente meno giovane tecniche meno invasive ma che comunque consentono un recupero della funzionalità in base a quelle che sono le richieste funzionali del soggetto sono altrettanto valide. Sono tecniche comunque assistite artroscopicamente, la maggior parte sono puramente artroscopiche, qualcuna più invasiva ma oggi si riesce a fare assistita con l'artroscopia e quindi questo dà il vantaggio di fare delle incisioni molto piccole.